Questo programma è presentato da Arena, Mia Arredamenti, Pavi System, Ottica Arnone, Sambao Brasilian Sushi, Quirino Gabrielli, Big Mat. Buonasera da Pierpa. Paolo Flammini, sedicesima puntata di Ritmo di Samba, ultima puntata del 2023, puntata in qualche modo straordinaria, va in onda di giovedì anziché l'usuale martedì. Ad ogni modo affronteremo questo momento davvero difficile per la Samba, un dicembre nero, due punti in quattro partite, la perdita del primo posto, la prima contestazione che si è avuta ieri dopo la sconfitta con la Vigor Senegalia, tantissime recriminazioni. Noi analizzeremo il momento sportivo, analizzeremo anche i possibili sviluppi societari, quello del calcio mercato, ma anche le decisioni arbitrali, e qui lo faremo dettagliatamente con un servizio davvero ad hoc, non lasceremo veramente nulla di intentato per capire cosa sta accadendo attorno a questa Samba, in maniera comunque tranquilla e riflessiva e lo faremo con i nostri ospiti, ospiti ovviamente importanti perché sono il vertice societario della Samba. Ringraziamo il presidente Vittorio Massi per essere qui presente, con lui il consulente sportivo della Samba del Tese, Massimiliano Fanesi. Li ringraziamo, vi ricordo potete inviare i vostri messaggi al 392 944 1132, cercheremo di leggerli tutti o comunque di sintetizzarli, perché comunque gli argomenti che tratteremo stasera sono già di per sé molto ampi e sicuramente ci sarà molto da parlare. Andiamo subito di corsa con il nostro ritmo di Samba a vedere i risultati della 17esima giornata, l'ultima del girone andata, Vezzano-Soro 1-0, Chieti-Matese 3-0, anche se questa vittoria non ha salvato la panchina di Chianese che è stato esonerato, Forse Temponese, Tivoli 1-3, Monterotondo, Fano 2-2, Notaresco, L'Aquila 0-0, Termoli, Campobasso 0-0, Riccioni, Atletico Ascoli 0-1, Vasto Girardi, Roma City 0-3, Samba, Vigor Senigallia 1-3, prima sconfitta interna stagionale e seconda di tutta la stagione di questo dicembre nero. Andiamo a vedere la classifica che si è delineata, una classifica che si va sempre più comprimendo, perché il Campobasso è in testa, ha leggermente allungato da più 2 a più 3, ma ci sono le prime squadre, vedete, hanno appena 6 punti, Campobasso 34, Samba 31, Avezzano, L'Aquila 31, Chieti 30, Vigor, Senigallia 29, Roma City 28, poi Notaresco 25, Forse Temponese 24 e la parte bassa della classifica che lotta per la salvezza, Sora 19, Riccione 18, Atletico Ascoli 18, Fano, Tivoli, Monterotondo 17, Vasto Girardi 16, Termoli 14, Matese 13. Andiamo a vedere, e qui ci introduce la vignetta di Rossano Cocchieri, ci introduce a uno dei temi della serata, una vignetta abbastanza eloquente e indicativa del momento, perché comunque l'arbitraggio, anche quello di Samba, Vigo Senigallia, fa molto parlare, vi assicuro che è tutto regolare, qui lo dice, diciamo, l'Al Capone interpretato da Robert De Niro nel celebre film di Brian De Palma, l'Intoccabile, è tutto regolare, adesso andremo a vedere, sicuramente è tutto regolare, ma gli errori sono molto gravi, è soprattutto quello che fa pensare a noi, comunque come giornalisti, sono reiterati, prolungati nel tempo e nella stessa partita e sempre a senso unico, sempre nel dubbio si fischia contro la Samba. Ne parleremo fra poco, io direi intanto, per iniziare andiamo a vedere tutti i gol della giornata di ieri, la carrellata di gol, e poi torneremo qui con i nostri ospiti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. E purtroppo è andata così. Niente, ho salutato, ho dato gli auguri a tutti i giocatori, ieri sera in un clima un po' molto dimesso, però una, due, tre partite valutiamo, adesso in questo momento stiamo parlando, stiamo discutendo tra di noi, però sappiamo tutti che alla fine la decisione la prenderò io. Quella che sarà, se ci sarà una decisione da prendere, come fare. Parliamo dell'allenatore? Di tutta la squadra, qua in discussione tutti quanti, si salva solo Michel in questo momento, perché è un mio assunto. In questo momento io sono arrabbiato, ma so che ho una squadra fortissima che è stata creata per vingere e lo abbiamo dimostrato. Ieri in campo c'era solo una squadra, voglio dire, non è che ci stava niente. Pali, traverse, rigori non dati, gol fatti e non visti. C'è stato di tutto in un'unica partita. Il gol loro su fallo sul portiere. Se andiamo a vedere tutta la partita, è stata la partita che l'abbiamo fatta solo noi. Solo noi, sì, ho sentito dichiarazioni dell'allenatore loro e tutto quello. Questo è un gol che l'ho visto io che ero dietro al guardaline e il guardaline non l'ha visto. A me mi hanno detto che non parla male degli allenatori, delle cose e tutto quanto, ma anche in questo momento ci sta veramente questa macumba sulla Sammettese. Però qualcuno ti deve guardare, qualcuno guarderà le immagini ogni volta. Se uno si mette a guardare una volta la Sammettese, la seconda volta la Sammettese, la terza volta la Sammettese, la quindicesima volta la Sammettese, signori, ci sta qualcuno che non vuole questa Sammettese. O forse veniamo da anni in cui la Sammettese non si è fatta volere bene e ne paghiamo le conseguenze noi. Non lo so che sta succedendo, però mi hanno detto di raccogliere tutti i dati e mandarlo. Noi tra poco manderemo la carrellata di ben 12 episodi, a partire da Notaresco, ma quasi tutti concentrati a partire dalla gara di Chieti. Vado da Max Fanesi per trovare conferma a queste dichiarazioni di Vittorio Massi. È un momento di riflessione, perché poi la squadra si rincontra, ricordiamo, i giocatori tornano ad allenarsi il 27, poi ricominceranno il 2 e vista della sfida del 7 gennaio. Un momento di riflessione, tutti in discussione, a partire ovviamente dall'allenatore, ma anche i calciatori. Che potrebbe accadere? Ci potrebbe essere una scelta diversa in questi giorni? No, va bene. Quello che ha detto intanto buonasera a tutti i telespettatori. Quello che ha detto il Presidente, allo stato attuale ci vede protagonisti di una riflessione ulteriore. Sono tutti in discussione, partendo dal sottoscritto e andando a finire all'ultimo della rosa. Sicuramente dobbiamo ripartire con più slancio. È un mesetto che è stato definito il dicembre nero, perché fino a 40 giorni fa eravamo dei fenomeni. Dopo la partita con l'Aquila oggi siamo tutti brocchi, quindi nel calcio l'equilibrio incomincia a diventare un optional. Però sapevamo che questa era una piazza, vivendo San Benedetto, essendo noi sanbenettesi, vivendo tutti i giorni questa città, sapevamo che è una piazza importante e stiamo vivendo l'altra faccia della medaglia. Ci sono riflessioni da fare e come stavo dicendo prima dobbiamo ripartire in questo momento dalle situazioni che dipendono totalmente da noi e dare un'inversione di rotta, che ce ne sono alcune. Poi, ripeto, ci saranno delle riflessioni e poi si faranno delle scelte. Su Lauro, ovviamente, l'ha detto anche il presidente Massimo, è sotto gli occhi di tutti una partita eccezionale a livello fisico e tecnico. Ovviamente i calciatori della Samba, diversi calciatori, passavano sopra gli avversari, la palla poi non è potuta entrare. Però il problema, lo vediamo anche con una schermata, il problema è il blackout rosso-blu. La Samba ha preso ben sette gol dall'ottantaquattresimo minuto in poi, anche ieri l'ottantaquattresimo minuto fatale. Ecco qui Avezzano-Samba all'ottantanovesimo rigore di Roberti, Chieti-Samba al novantaquattresimo fall di avambraccio, possiamo dire. Poi Persichini all'ottantaquattresimo a Campobasso, poi c'è stato i due gol in un minuto dell'atletico Ascoli-Ciabuschi e Traini e ieri Broso all'ottantaquattresimo e Sheffer all'ottantottesimo. È vero che il gol di Broso, poi lo vedremo ancora più nel dettaglio, arriva con un evidente carica al portiere perché Chiriota non tocca neppure la palla, frana sul portiere e Broso in sacca a porta vuota. Però è vero che hanno creato una grande occasione all'ottantaquattresimo minuto, di fatto l'unica occasione dopo quella del gol. Ecco qui, Chiriota non tocca la palla, frana sul coco, però sempre gli ultimi minuti sono quelli più pesanti. Qui faccio notare che Chiriota è sfuggito a Scimia che aveva accusato Crampi, ha costo tantissimo, una partita eccezionale del centrocampista. Però lì magari aveva sulle gambe un po' di acido lattico e Chiriota gli è sfuggito via. La questione cambi sicuramente ha inciso, non sono stati fatti cambi per assenze, squalifiche, magari carenze numeriche, per scarsa fiducia in due giocatori che il Presidente conosce bene, Evangelisti e Pietro Paolo, due centrocampisti che però di fatto non hanno mai giocato. La questione cambi incide nella valutazione di una partita e di quello che è accaduto. Prendere gol a 5 minuti della fine in 6, 7, 8 partite non può essere più un caso. E anche le sconfitte è un caso che la Samba ieri abbia perso, però in quel finale molti giocatori erano sulle gambe. Il problema è che le partite non finiscano l'ottantesimo, se fossero finite l'ottantesimo, però in tutte quelle partite che hai fatto vedere ci sono sempre episodi vari che alla fine non ci hanno dato ragione. Ne bastava uno dei tanti episodi che ci sono capitati e stavamo ancora primi e questo è un discorso. Siamo ancora lì, i cambi, io non faccio l'allenatore, non decido gli allenatori, però Stefano e Max gli hanno messo a disposizione all'allenatore una rosa di 26 giocatori. Io ho preso atto di tutto questo. Il discorso è che anche quei due ragazzi che hai citato vengono con me, ma non vengono da due campionati già di serie D, 2003, che hanno fatto due campionati di serie D. E' pur vero che dopo io non faccio... Però alla fine lei decide, l'ha detto, alla fine lei ha a decidere. Sì, dopo... Non chi gioca, ovviamente, però su Lauro, con già alcuni messaggi, altri cercherò di leggerli, la tifosite è divisa, qualcuno dice comunque sta facendo bene, qualcuno dice no, va, è sonerato. La squadra, guarda, noi abbiamo fatto un campionato, fino adesso, ottimo. Devo dire che sto 82esimo, 84esimo, 89esimo, è deleterio per noi, è deleterio. E ho detto io, quando si toglie l'ambidia, come si dice in gergo qui da noi, si deve trovare un mare, qualcuno che alla fine deve fare, oppure, vanno tutti a Loreto, vanno da qualche parte, tra Sacro e Profano, non so da dove... Tra sale e acqua benedetta. Dove arrivare, io vado con lo sale, vado con la... Ieri le stoffa tutte, le stoffa tutte, ma la squadra, ieri è stata una bella partita, ma ieri è stata una bella partita. Forse è la migliore. Ma perché? A Roma-Sidi la spingevamo, 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 cioè, sono state, alla fine, delle belle partite. A me dispiace, a me, a un certo punto c'è stato un tifo generale, partito dalla curva, che esplodeva, quasi, se facciamo gol, esplode San Benetto, esplode San Benetto. E invece è una malatata, sta soddisfazione, cosa è stata... Cioè, peggio di una coltellata, ieri, cosa... Però il gol, la fischia all'arbitro, fischia, oh, che ferro, carica il portiere, via, la normalità è questa. Se era rosso-blu la maglia, se era rosso-blu la maglia, avevi fischiato. Eh, questo fa pensare. Questo è sicuro, questo è sicuro, a 100% era fischiato. Voglio sentire Max Fanesi, che, di calcio, di campi nei Calcati, cioè, questa, poi ne parleremo dettagliatamente, ma questa serie di scelte, sempre, nel dubbio, contro la Samba, forse perché, come dire, gli arbitri vogliono far vedere che non hanno paura di questo pubblico, non lo so, cioè, è strano, è strano vedere... Ma anche il terzo gol, che parte da un fallo, un fallo, ci sta, non ci sta, ma già ci si fa perdere una partita, arbitro, porca miseria, tu gli fai partire contro piede, tre contro... Tutte le decisioni, sempre contro la Samba, nel dubbio, come si dice a Sammetto, visto che il Presidente ha usato delle espressioni di Dalletali, nel dubbio Coppe, nel dubbio contro la Samba, per non sbagliare. Beh, allora, come ti ho detto prima, secondo me, dobbiamo ripartire, soprattutto, da dove possiamo mettere subito mano, e che dipende esclusivamente da noi. Detto questo, mi fai una domanda, e io ti dico, che quello che a me mi fa più riflettere, non è tanto... Sì, sono i rigori che sono importanti, parlo della partita di Chieti, la non espulsione del difensore sul fallo di Scimia, stessa identica situazione, Barberini è stato espulso. Ariano, con Roma City, tolgo i due rigori, Tomassini, Tomassini prende la palla sulla bandierina, prende la palla netto, si invola nell'aria, non è una chiara occasione al gol, però si invola in aria, viene fermato e fischia punizione. Quelli sono, per me, il termometro di che cosa? Di non essere all'altezza, di malafede. Adesso qui entriamo in un discorso che magari uno è meglio che non fa, perché come società abbiamo... Il Presidente ha deciso, insomma, di andare nelle sedi opportune e istituzionali dove... Sarà mandato un dossier, forse le nostre immagini, ecco qui, dopo lo vedremo nel dettaglio, però questa è un'altra immagine. A noi di modo, poi ne parleremo, andiamo a sentire intanto le dichiarazioni di De Angelis proprio ieri sera a caldo. Ma no, uguale sfortuna, non cerchiamo albi, non è il nostro costume, magari c'è la rabbia del momento, magari come gli episodi negativi che ci sono stati, no? Però quelli finiscono già la domenica sera, quindi assolutamente non è colpa, ripeto, come l'ho detto prima ai suoi colleghi, non è colpa dell'arbitro, non è colpa di nessun altro, è colpa soltanto nostra. Dobbiamo fare tesoro di queste cose e ripartire con grande forza, con grande vemenza, capire gli errori, avremo linfa nuova. Però, ripeto, la società ha le idee chiare, è una società solida, che ha entusiasmo, ha voglia e sicuramente non si fermerà di fronte alle prime difficoltà. Tecnico confermato? Sì, siamo ancora tutti quanti scorsi dalla sconfitta di oggi perché sinceramente non me lo aspettavo neanche io, perché sull'1-1 avevo la sensazione che si potesse vincere, abbiamo preso due tre verse, poi il campo ha detto altro, quindi è esclusivamente colpa nostra, non è colpa dell'altro. Noi già con Senegaliesi, Bontà e Touret diamo linfa nuova, sicuramente cambierà anche la scelta, le caratteristiche della squadra, uno avrà sicuramente più forza, avremo uno spirito diverso, vedremo se ci sarà bisogno di qualcos'altro, la società non si tira indietro, quindi da quel punto di vista vogliamo ripartire con grande forza. È normale che oggi ci aspettavamo un altro tipo di risultato e ci avevamo prefissi di fare questi giorni per riflettere bene e vedere se c'era bisogno di qualcosa. Oggi la botta è stata dura, però non molliamo perché non siamo tipi che mollano, siamo partiti da zero in un giro di 20 giorni, abbiamo grande rispetto della città, sappiamo la responsabilità che abbiamo e come ho detto il primo giorno non lotteremo fino all'ultima giornata, ma poi a maggio faremo i conti. Gian Paolo della Re Canatese potrebbe essere un altro nome da accostare a questa samba? No, ma adesso se ne fanno tanti nomi, soprattutto in questo momento abbiamo deciso di rimanere così in sordina fino alla fine del mercato, sapevamo che potevamo rischiare qualcosa, sicuramente oggi la partita si poteva vincere sul campo perché non c'era come valori. Poi ripeto, è stato più un crollo mentale, dobbiamo lavorare su questo, sicuramente capire i motivi, perché perdere 3-1 una partita del genere, al di là del dispiacere, però c'è qualcosa dell'ispiegabile che c'è da capire. Sempre gol nei minuti finali, evidentemente qualche ragazzo non ce la fa più alla fine. Ma non lo so. Spende troppo prima. Questo non lo so, ognuno deve fare il suo, dico io. Io faccio il direttore e cerchiamo di fare al meglio la squadra, l'allenatore allena, i giocatori devono giocare, la società deve fare la società, quindi noi vogliamo soltanto l'unico messaggio che mandiamo, che è quello che non ci arrendiamo, adesso è giusto prenderci le critiche, è giusto tutto quello che dicono di negativo in questo momento. Ce lo prendiamo, però sono sicuro che poi le cose cambieranno. Abbiamo visto uscire il presidente un po' rosso in volto. È normale, il presidente fa sacrifici, è un passionale, ha investito tanto su questa cosa, ha grande passione come tutti noi, ha grande rispetto della città, la vive, è di San Benedetto, però ripeto, io dico sempre anche a lui che la società rimane, poi le pedine possono cambiare, che vada al giocatore, al direttore, all'allenatore, quindi non è quello il problema. L'importante è che ci sia una società solida, che abbia programmi, che dia un futuro a questa città e a questa piazza e che se lo merita. Ieri in tribuna c'era anche Mirko Cudini, a San Benedetto con tanti altri ex per una cena di ex rosso-blu, Cudini però è stato sollevato dall'incarico a Foggia, tra l'altro c'è un aggiornamento sull'accordo collettivo tra l'Ajac, la Lega di Serie D e la FIGC, sono stati uniformati le regole in vigore da quest'anno per gli allenatori esonerati, prima c'era una deadline al 30 novembre per poter prendere un altro incarico, poi è stata spostata al 20 dicembre, tra l'altro notizia proprio di oggi che mi sembra che si è stata spostata fino al 30 dicembre, comunque Cudini è stato esonerato prima del 20 dicembre, potrebbe ancora allenare Cudini che è stato cercato la scorsa estate ma poi ha preferito restare in Serie C, a Max Vanesi chiedo, Cudini ha un'ipotesi eventuale per la panchina dell'Assemble? Guarda, io ti rispondo dicendo che la presenza di Mirko ieri allo stadio era casuale perché, come hai anticipato tu, ieri sera c'era una cena a cui dovevo partecipare io, che poi non ho potuto presenziare perché c'era appunto la cena di società, è stato un allenatore che abbiamo cercato in estate però poi il matrimonio non si è fatto, ad oggi il responsabile del mercato è Stefano, è lui che prende decisioni insieme al Presidente e ovviamente con il sottoscritto ad essere interpellato, però ad oggi non credo che ci sia questa situazione di Mirko Cudini. Presidente, tutti sono in discussione, anche il direttore sportivo? L'hai detto tutti, io chiedo. Allora, sono in discussione pure io allora, siamo in discussione tutto quanto, io dico per generalizzare, per tutto quanto, siamo tutti in discussione perché ci stiamo valutando, stiamo valutando dove ho sbagliato io, dove ho sbagliato Max, dove ho sbagliato Stefano, dove ho sbagliato l'allenatore, dove ha sbagliato l'omagazziniere, dove siamo sbagliati, perché siamo stati attenti, abbiamo avuto un'attenzione quasi maniacale per costruire questa San Benetese e devo dire che non l'abbiamo fatta male, dai su, non è che siamo ultimi in classifica e poi se ci mettiamo gli errori arbitrali, quindi non troviamo scusate, non troviamo scusate, ma alla fine l'unica partita veramente brutta che c'è stata è stata quella con l'Atletico Ascoli, veramente brutta. Le altre sono state entusiasmanti, io dopo faccio il tifoso, mi sposto a destra e a sinistra, però mi sono piaciute le partite, sono state belle e ogni volta la squadra ti teme, ma anche quando vai fuori casa, noi abbiamo incontrato sabato un Roma Sidi che ha tutti questi nomi, questi giocatori, c'è il capo caldiniere, tutto quanto, non ha fatto tutti i riporti, abbiamo incontrato il campo a basso, che a un certo punto il campo a basso, quando dovevamo dare il colpo finale, noi l'abbiamo dato e ha vinto la partita, però non è che c'è stata la suprema zia, l'Aquila, in casa, la partita perfetta della Sammettese, sono state partite alla fine che sono state belle, entusiasmanti, quindi io capisco tutti il tifo e tutto quanto, e le critiche le voglio prendere, le prendo perché a Sammetto c'è gente che capisce pure il calcio, a certe volte qualcosa ti sfugge e ti ha scritto quello, ah è vero, mi ha ricordato quella cosa e devi prendere pure quelle buone, quelle critiche buone che alla fine ti faranno crescere e in queste ore in cui stiamo parlando, discutendo tra di noi, ci possono essere utili, non è che andiamo di testa nostra, io so quello che capisce più di tutti. Lei ci crede però, ci crede? Alla Sammettese? Nella possibilità di essere, come ha detto Dianchi, i protagonisti fino alla fine e giocarsi, magari nelle ultime partite l'eventuale vittoria del campionato? Io ci ho sempre creduto, però io in questo momento lo sto dicendo più volte, troppe volte lo sto dicendo, ma perché ho visto tutte le partite, a questo punto al giro di Bola abbiamo viste tutte, noi dovevamo stare molto più su, questo lo sappiamo, abbiamo lasciato punti, per merito, demerito nostro, per incompetenza di certi personaggi che arrivano col fischietto dentro il campo o quelle con la bandierina che alla fine vedono un gol che è entrato mezzo metro, cioè alla fine noi stiamo lì e se vuoi trovami la squadra che ci ha dominato. Vedremo, vedremo poi tra poco, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, poi torneremo sulla partita di ieri sul mercato, sulle questioni poi anche societari, fra qualche istante. Cominciamo a leggere un po' di messaggi, ci sono tantissime domande per i massi, Presidente, grazie, cominciano quasi tutti così, ringraziano all'inizio i tifosi. Dopo anni a Natale e a San Mettro si parla di calcio e non di riborsi, c'è bisogno di un altro, per venire il campionato c'è bisogno di almeno due attaccanti da doppia cifra, poi con questo ci ritorneremo, io adesso intanto li leggo, sono temi. Terza cosa, un regalo prima della Befana ce lo fa in attacco, Ale da Stella, un altro Marco da Siregno, un grande saluto al Presidente che ringrazia, dicembre nero, per le prestazioni arbitrali molto discutibili, siamo vicini alla squadra, al Presidente, che dopo la sosta si possa ripartire come ad inizio campionato, tifosi giornalisti hanno dato per scontato che le colpe sono del tecnico, ma veramente pensate che abbiamo tutti questi fenomeni, siamo la squadra più forte, il DS si mette in discussione, c'è da Giovanni, per Fanesi, perché le ali non si invertono, perché Battista Mari non va ogni tanto a destra, perché da lì avrebbe l'assist più semplice, qualcuno chiede anche di falla, a Chieti, fiducia al Presidente Massi, la torrabbia anche la nostra, buone feste Presidente, il dolore per lì è stato perdere nella più bella partita dell'Assemble, il problema per noi è rimanere agganciati, chi vince festeggia, chi perde cerca scuse, carissimo Presidente, mi dispiace dirle che forse è ora, qui si parla di cambiare il DS, visto che guarda solo il Sotticello, Notaresco, Campobasso, via discorrendo, e su Alessandro, poi ne riparleremo, mandarlo diciamo via, perché ampliare un po' la rosa e un'overa avanti come vice di Tommassini, addirittura a cambiare preparatore atletico, ma non credo che sia questo il problema, ecco adesso ne ho fatto un po' una carrellata, riprenderemo questi discorsi, un attimo, una cosa importante che è veramente piacevole, lo striscione dedicato a Rodi, dai tifosi di Senigallia, veramente da rimarcare, Senigallia ricorda il Rodi, il motopesca sammetese naufragato, il 23 dicembre 1970, con 10 vittime, sabato si terrà, come di consueto, la cerimonia di ricordo di quello che avvenne, con l'approdo negato, nella banchina del porto di San Benedetto, questione Alessandro, chiedo a Max Fanesi, se ne discute tanto, nelle ultime due partite forse è stato un po' sottotono rispetto alle prestazioni precedenti, dove comunque agiva da regista avanzato, comunque da lui ci si aspettavano i gol, ne sono arrivati solo tre, come sta Alessandro, e cosa vi aspettate da lui in questo giorno di ritorno? Ma sicuramente da Danilo ci aspettavamo tanto, perché lui veniva da una serie di campionati vinti, da protagonista tra l'altro, e se magari Lumezzane, Seregno possono essere piazze dove si vince, non ci sono tante pressioni, il curriculum dice che comunque ha vinto anche in una piazza come Cesena, dove vanno 10.000 spettatori, contro la Torres ce ne erano 13.000, anche se in Lega Pro ha uno scontro diretto, quindi sicuramente ci aspettavamo di più, è un giocatore che è uno spessore tecnico e di carisma importante, però questa, diciamo, vogliamo definire la lacuna, è stata anche colmata da un giocatore che si chiama Simone Tomassini e vorrei fare un inciso su Simone Tomassini, Simone Tomassini è stato uno di quei giocatori che durante la preparazione è stato criticato aspramente, non ha fatto un gol neanche inamichevole, non ha fatto un gol inamichevole, nelle amichevoli precampionato, è stato criticato, aspramente no, però è stato criticato, la società ha avuto fiducia in lui e adesso è capocannoniere, per cui voglio dire, quando io parlo di equilibrio non è che ci si può far condizionare da domenica a domenica, vedo anche nei messaggi tifosi che vogliono Danilo titolare e tifosi che vogliono invece Danilo che addirittura si dia via. Resterà Alessandro? Tu mi fai delle domande a cui sia il Presidente e io abbiamo già risposto, siamo tutti in discussione, ovviamente tolto il Presidente e il Vice Presidente, tutto lo staff è in discussione, tutti i giocatori sono in discussione, tutte le scelte che la società farà è perché vuole migliorare questo organico e vuole arrivare a fare un campionato importante, io non parlo di vittoria per scaramanzia, ma vuole sicuramente ripresentarsi a gennaio e in assi di ripartenza, sicuramente con più voglia e riprendere un certo tipo di cammino che forse in questo dicembre che è stato definito nero abbiamo forse tralasciato per vari motivi, per cui si sono fatti delle scelte a luglio e mi riaccangio anche a colei che ha scritto il messaggio di FAL, che FAL era stato, se non sbaglio, ma era arrivato addirittura anche all'orecchio che era, permettetemi la parola, sponsor di una cordata che voleva prendere la SAM, ma questo ragioniamo tutto con beneficio di inventario. A luglio si fanno delle valutazioni che comprendono l'aspetto tecnico, caratteriale e di equilibrio all'interno dello spogliatorio. Non capisco perché si parli di FAL ancora oggi, però vabbè, accetta. Poi vedo scorrere sul DS, guarda solo il suo orticello, al telespettatore e dico di informarsi bene perché il DS ad Andrea non ha mai lavorato, per cui magari voglio dire, lasciamo un momento le antipatie personali e cerchiamo di essere lucidi in questo momento difficili per la San Benedettese, siamo tutti dentro un calderone, siamo tutti tifosi, per la prima volta dopo decenni dal vertice alla base siamo tutti di San Benedetto e siamo tutti tifosi, vogliamo tutti il bene di questa squadra e di questa società. Questa è una società che il primo luglio ci sarà, 2023-2024, come ha detto il direttore potrà non esserci Fanesi, Tizio, Caio, Sempronio, ma la società resta, una società seria, per cui cerchiamo di tutelare quello che di buono è stato fatto, le critiche la società le accetta, ci mancherebbe altro, però ci vuole un minimo di equilibrio, non ci sono i cambi, affronto tutti, scusa, vado un po', non ci sono i cambi, fino a un mese fa i cambi, Martinello è entrato contro il Riccione e ci ha fatto gol, Leonardo è entrato contro la Fossombronese e ci ha fatto gol, Scimia quando è entrato... Forse solo con Fossombron e cinque cambi, per dire, non è stata sfruttata. Io non entro sull'aspetto tecnico, ti ripeto, perché non è la mia competenza, io l'unico ruolo... Non vuol dire che ci sono i giocatori per fare i cambi. Io dico che la rosa c'è, poi stabilire se sono all'altezza o no, bisogna vederli giocare durante la partita, perché se tu... Ma non è una questione riferita alla Sambio, io parlo in generale, io parlo di Orfano, no? Orfano, non ha mai giocato, come si fa a stabilire se Orfano è all'altezza o meno? Ma non è una critica, eh, parlo... Faccio una riflessione a 360 gradi, perché vedo che qui nei messaggi si spazia dalla A alla Z, non c'è un filo conduttore... Cioè, la troppa passione, il troppo voler bene molte volte ti porta a fare magari delle considerazioni, delle riflessioni lucide. Ripeto, noi dobbiamo essere tutti consapevoli che cinque mesi fa è nata una cosa e qui ci metto la mano sul fuoco che vuole il bene della società, della città e del territorio. Su questo ci metto la mano sul fuoco e su questo non si transige. Poi, vogliamo discutere dell'aspetto tecnico? Ne discutiamo, però con un minimo di equilibrio, perché qui cinque mesi fa molti dicono che siamo partiti da zero, no, siamo partiti da meno zero, perché siamo partiti con la diffidenza generale, solo il 20, il 30%, possiamo riprendere pure gli articoli di giornale, di inizio maggio, solo il 20, il 30% ci ha dato la fiducia ed è questo signore che poi si è conquistato l'altro 70-80%, anche economicamente. L'ultima cosa che ha fatto la famiglia Massi è recuperare il nome della San Benedettese. Un altro signore che non gliene fregava niente, vado avanti con il San Benedetto e poi vedremo lui ha voluto dare dignità a questa società col nome US San Benedettese. Questo non ce lo scordiamo perché adesso noi parliamo di che cosa? Di un secondo posto a tre punti col campionato aperto? Qui nessuno dice che noi dobbiamo vincere per forza. Qui diciamo che il primo luglio a prescindere da come va il campionato la società riprogramma il prossimo anno. Poi, ripeto, le antipatie personale lasciamoli da parte che ce ne sono anche troppe. Grazie Max, però è arrivato un messaggio e qui coinvolgo di nuovo il Presidente un messaggio che chiede quindi Lauro in questo momento lo state valutando non possiamo dire che sarà sicuramente lui sulla panchina il prossimo 7 gennaio è una fase di diciamo valutazione generale che coinvolge anche Lauro ci potrebbe essere un cambiamento nei prossimi giorni. C'è questa eventualità? Stiamo discutendo e dico la valutazione finale sarà la mia la responsabilità come mi assumo tutte le responsabilità io ringrazio Max che è il primo tifoso io ringrazio quando gli telefonai e mi disse di sì vabbè è un uomo eccezionale è uno che vive San Betto in un modo morboso. No, io sto dicendo che alla fine stiamo studiando tutto non vogliamo sbagliare questo noi ci siamo abbiamo iniziato questa grande storia che stiamo facendo una grande cosa San Betto lo sappiamo e siamo consapevoli tutti quanti insieme non sono solo io e non vogliamo sbagliare noi in questo momento non ci riteniamo di aver sbagliato qualcosa c'è stata sì sfortuna e tutto quanto ci saranno delle sistemazioni sicuramente ci saranno delle sistemazioni ma dobbiamo far passare far raffrontare un po' la cosa sicuramente io stamattina giravo per la città la gente a Bassino Finestri il presidente oh che stai fa oh 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 cosa è il bello della città è il bello della città è il bello dell'asambe di San Betto che ci tiene ci tiene e lo ha dimostrato non stiamo a ricordare sempre tutto però lo ha dimostrato da 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 st'estate in avanti anche ieri è eccezionale veramente eccezionale non vogliamo questa è la cosa che ci preme più di tutti come dice Max siamo a disammetto e non vogliamo sbagliare non è che noi usciamo da qua a partire diciamo una la decisione che arriverà Lauro sì o no sarà comunque ben ponderata ma allenatori giocatori è tutto è tutto non vogliamo sbagliare questo è il discorso per arrivare a un obiettivo finale che è come dice il direttore è quello che si augura tutta la città intanto direi di aprire la finestra che riguarda gli arbitraggi abbiamo realizzato veramente una carrellata di ben 12 episodi tutti contrari alla samba a partire da Notaresco ma poi sono quasi tutti concentrati nelle ultime partite a Notaresco ecco qui un rigore negato a Battista che insomma con l'arbitro a pochi passi poi le immagini hanno chiarito che c'è stato come dire un pestone sul piede e qui l'arbitro non diede il rigore ecco qui le immagini più grandi testimoniano questo piede su piede e quindi si è partito da Notaresco poi avanti si è arrivati alla fase finale tra l'altro ne approfitto per ricordare che gli arbitri che hanno contestati ad esempio Alessio Marra o Raineri Stefano Raineri che ha arbitrato la samba proprio a Chieti poi ha arbitrato altre tre partite Marra ha arbitrato domenica scorsa dopo aver diretto la samba a Campobasso quindi non sono stati puniti tra virgolette ma anzi sono stati premiati per i loro arbitraggi questo fa anche riflettere abbastanza possiamo vedere gli altri episodi incriminati dopo Notaresco ci sono state tante ecco qui vediamo Chieti-Samba qui c'è stata appunto la mancata ammunizione dopo che Barberini è stato spulso per un fallo simile poi c'è stato il gol di falla al 94 con 8 minuti di recupero un gol con la palla che è sbattuta sull'avambraccio certo una palla schizzata molto veloce però appunto nel dubbio né Guardalini né arbitro hanno notato che il gol è stato fatto col braccio poi si è arrivati alla situazione di Campobasso il famoso rigore non assegnato per farlo su Alessandro rigore è possibile espulsione per questa ricetta con cui vediamo Alessandro se era proprio involato è vero che qui un po' rallenta protegge palla ma non c'è uno spalla spalla viene colpito alla schiena questo è rigore nettissimo anche per stessa missione dei dei tifosi di Campobasso c'è stato poi la partita con l'atletico con l'atletico Ascoli c'è stato l'episodio del gol annullato a Martigniello abbastanza difficile abbiamo rivisto poi si era già sul 2-0 difficile da capire insomma Lizzopoletti non è andato col piede teso il giocatore è caduto l'arbitro ha dato gol annullato nel dubbio contro la Samba si arriva forse alla questione più scandalosa la partita di Riano con Roma City due falli di mano davvero clamorosi qui Cardoni che crossa per Tomassini a centroarea palla colpita col braccio l'arbitro del guardiere non vedo nulla ancora più grave l'episodio proprio nei minuti finali con Zopoletti che mette qui siamo appunto Cardoni vedete la palla colpita col braccio in maniera evidente l'arbitro non è molto distante ma è incredibile ecco quando succedono queste cose giornalisticamente si comincia a pensare insomma qualche cosa scatta nella mente degli arbitri perché poi questo è ancora più più grave nella stessa giornata è stato dato un qui Zopoletti mette al centro braccio largo rigore cento volte su cento nella stessa giornata è stato dato un rigore atletico Ascoli dove un calciatore con le braccia alzate il difensore ha rinviato ha colpito il compagno è stato dato rigore questo non è stato valutato come rigore clamoroso e arriviamo poi alla partita di ieri col signor terribile ci si aspettava magari una compensazione non dico ma un arbitraggio normale e vediamo il gol annullato non l'annullato gol non assegnato a Tomassini che ha calciato da mezzo metro dalla porta qui le immagini così non chiariscono ovviamente anche per la prospettiva le abbiamo poi anche messe sui social in maniera rallentata con i fotogrammi la palla sembra veramente entrata e devo dire ecco qui devo dire che anche i stessi tifosi della Vigor Senigallia sui social ci hanno girato che ammettono che la palla è entrata poi c'è stato e l'abbiamo già visto prima che Riota crolla sul portiere non tocca la palla si resta stupidi perché un fallo del genere al centrocampo viene fischiato e qui è stato impedito al portiere di muoversi io non ho poche parole quando succedono tutte qui c'è ecco anche Battista che protegge palla da dietro cade a terra fallo o no l'arbitro nel dubbio come abbiamo detto prima coppe nel dubbio contro la Samba e arriva il gol una carrellata che è di per sé impressionante qua non c'è un dossier c'è qualcosa di incredibile perché effettivamente io a memoria non ricordo sulla Samba negli ultimi vent'anni una serie così di decisioni contrarie in così stretto tempo può capitare una partita può capitare due partite ma quattro cinque sei partite tutte una dietro l'altra è qualcosa che noi non ci possiamo esimere dal raccontare giornalisticamente poi è vero che bisogna essere più forti di episodi è vero che non bisogna fare vittimismo ma è vero che tutto va raccontato e questo va raccontato in maniera ferma e decisa e qualcuno dovrà pur vederlo per non trasformare un campionato in uno scandalo io direi intanto sentiamo un'intervista molto interessante quella di Marini ex Marini che è dato a raccogliere applauso dei suoi ex tifosi è stato qui nel campionato 2013 e dice cose interessanti sulla Samba e sulla tifoseria non è stato facile oggi sicuramente è una partita difficile è una partita contro una squadra che ha giocato bene a calcio e come ho già detto siamo stati forse bravi nel soffrire e cercare di non subire più del dovuto anche se poi ripeto individualità importanti c'è la Samba e soprattutto anche con Battista oggi che ha fatto veramente la differenza e siamo stati bravi magari a non subire la secondariette anche forse fortunati sulla traversa che ha colpito la Samba e quindi non tolgo che le occasioni la Samba ne ha avute quindi è inevitabile soffrire qua a San Benedetto insomma non è facile giocare qua lo so bene contro la Samba non è facile quindi ci siamo riproposti bene su quelle occasioni a campo aperto che abbiamo visto ecco siamo stati bravi lì a ripartire bene e concretizzare le occasioni che ci sono venute a creare ma se io qua come ho sempre detto ci ho lasciato parte del mio cuore quindi vi seguo sempre sempre a sostegno qua quindi ho il cuore che per questi colori l'ho sempre avuto da quando ho giocato qua quindi ci tengo a salutare tanti amici che mi hanno chiamato anche la tribuna dei distinti ma soprattutto non era facile perché comunque è un clima ostico oggi sicuramente una sconfitta così non era facile andare a salutarli perché capivo il momento ecco però io ci tenevo comunque a fare un gesto di saluto di apprezzamento per quanto ci hanno dato quando noi abbiamo vinto perché non dimentico che noi abbiamo vinto un campionato difficilissimo col sostegno e l'aiuto di loro e quindi da parte mia salutarli è un gesto dovuto mi ha fatto molto piacere che hanno contraccambiato tutta la curva ma io da lì dovrei rivedere le immagini la curva alla fine ha contestato i giocatori della Samba da tifoso un po' rosso-blu cosa pensi in questo momento? io sono andato a salutare i giocatori della Samba Tomassini Battista giocatori che ci ho giocato contro li conosco di più e sicuramente ho già dato un gesto di conforto di tenere botta perché capisco che il momento non è difficile non è facile è un momento difficile ma bisogna rimboccarsi le maniche lavorare per tornare chiaramente la Samba vedrà il modo per ritornare nella classifica che vogliono tenere e nei campionati importanti che vuole fare la Samba che sono di tutta altra categoria lo sappiamo bene è una piazza che vanta categoria professionistica sarò ripetitivo forse ogni anno ma è normale che qua si gioca per vincere intanto la Samba qualche ritocco l'ha fatto per qualcuno poi se volete rispondere un po' tardivo nel senso le altre si sono rinforzate la Samba è arrivata a queste ultime partite con una rosa un po' striminzita è stato preso Bontà un centro con pista di inserimento dal Gubbio poi vi chiederò le sue condizioni fisiche perché è stato bloccato per qualche mese ma i numeri parlano con lui con Gubbio e Campobasso 51 presenze e 4 gol in serie C tra l'altro Campobasso e anche Notaresco 90 presenze 21 gol in serie D Senigalliesi esterno dalla Re Canatese 7 gol l'ultima ND proprio con la Re Canatese tra i protagonisti della promozione in Città nella serie presenze e 2 gol sarà disponibile dalla prima partita si è parlato di Moretti ma sembra che non voglia scendere in serie D o comunque è titubante quindi la Samba non è intenzionata a ripercorrere la stessa telenovela della scorsa estate vi ho già accennato l'ho chiesto anche a De Angelis di Giampaolo della Re Canatese esterno classe 95 in serie C 39 presenze e 2 gol in D tra Re Canati Castelfidardo tra l'altro quindi con l'Auro 59 presenze 17 gol sintetizzo qualche Max Fanesi qualche messaggio dove oltre a qualche critica ad Alessandro si dice oltre a Tomassini in attacco segniamo poco 3 gol Alessandro 1-4 Battista però non è un bomber 1 Martiniello 1 Cardoni ieri serve un altro attaccante se stavo preso Senigallesi arriverà un altro attaccante è questo il vostro obiettivo guarda ti dico che sono tutte considerazioni che noi facciamo in camera caritatis perché comunque dire adesso arriva Tiz arriva Caio e abbiamo sperimentato nella situazione di Esposito che come esce una notizia poi se non si porta fino alla fine la trattativa ad essere concretizzata poi sei anche lì soggetto a critiche però volevo approfittare perché ho visto che mi si chiama in causa sì perché Renato che ho capito forse chi è la colpa è della tifoseria non mi è sembrato di dire che la colpa è della tifoseria io mi sento un tifoso quindi è come se se mi se mi facessi autocritica come consulente me la faccio quella sì dice è colpa la tifoseria assolutamente no ho chiesto solo un po' di equilibrio non solo di essere vicino ma supportare anche questa società che comunque ha fatto grossi sacrifici per ridare dignità al calcio a San Benedetto non mi sembra di aver fatto io vado orgoglioso in giro per l'Italia della tifoseria di San Benedetto quindi figurati se posso dire che c'è una colpa della tifoseria sono nato tifoso come il presidente lo stesso andavo al ballare per cui non vedo non vedo la critica dove voglio arrivare poi continua dicendo forse qualcuno ha sbagliato ma noi non siamo qui a dire che non abbiamo sbagliato però dopo tutto quello che abbiamo detto tifosi viviamo San Benedetto gli errori si fanno ma questi sono errori in buona fede per migliorare si prendono giocatori per migliorare la rosa allora parliamo di Danilo Alessandro no ma Danilo Alessandro uno ripeto uno che fa 23 gol all'Umezane c'è qualche dubbio a luglio dopo siamo tutti bravi a dire no non è buono non è quello dopo come chi tira il rigore lo tiro a destra ho sbagliato cavolo lo potevo tirare a sinistra dopo siamo tutti bravi le cose dobbiamo dirle nel momento in cui si fanno no dopo dopo è facile noi dobbiamo essere bravi come società a cercare di anticipare gli eventi anticipare i tempi e cerchiamo di farlo ma non sempre ci riusciamo però l'errore è fatto in buona fede figuriamoci se noi come società vogliamo prendere un giocatore che è un brocco apprendendo una domanda poi andiamo un attimo in pausa una domanda che arriva da un altro tifoso dice ieri De Angelis ha confermato Lauro oggi diciamo che siete in pausa di riflessione cosa è cambiato in queste 24 ore posso passare 24 ore ne passeranno altre 24 e saremo 48 poi passeranno altre 24 e passeremo a 72 quando usciremo usciremo con una dichiarazione che farò io fra il direttore fra Max avremmo preso la nostra decisione e nella speranza per il bene di tutta la Sammettese in cui la nostra decisione sarà determinante per proseguire il campionato per andarla a vingere però a me questa cosa è un momento è un momento curiosità ci voleva appunto perché è fondamentale la decisione c'è molta curiosità su questa decisione sarà fondamentale o non fondamentale però vivere adesso questo momento ci voleva no? ci voleva perché non poteva andare tutto bene diciamo tutto bene siamo stati bravi e tutto quanto e adesso ci vuole ma io ringrazio Dio che ci sia che sia sia arrivato adesso sia arrivato adesso un momento che ci mettiamo tutto gli arbitri noi forse i cambi quell'altro tutto tutto nel calderone ma meno male meno male che adesso abbiamo fatto 17 partite conosciamo tutte le squadre bene o male cambieranno le squadre in un modo o nell'altro però se mette un giocatore nuovo ne deve levare quell'altro quindi non è che ci sta tutto sto cambio il gioco poi ieri ho visto io prima della partita mi sono visto Nereto Campobasso sì Termoli scusa Termoli Campobasso sì però non è stata la stessa partita che abbiamo fatto noi cioè il nostro è stato però sì però c'è quel guai che alla fine la squadra arriva sempre è quello farò la richiesta di faturare partite 80 minuti faremo 40 e 40 potrebbe essere una soluzione però poi alla fine non è che dice 90 minuti ma tu la chiedi la fatura 98 minuti finché ti pareggia quindi la San Mettese comincia a dare un po' fastidio è scomoda l'abbiamo capito sono scomodo pur io per certi per certi tavoli ho scoperto sapevo di essere scomodo io al posto di Max ci vuol stare chiunque al posto del direttore sportivo ci vuol stare chiunque però noi ci siamo fatto un mazzo tanto per farla ma tanto ma tanto abbiamo levato tempo alle nostre famiglie al nostro lavoro e tutto il resto ma non per altro però siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto è bello è bello andare a Santa Gemma e vedere tutti gli bambini che ti aspetta è bello andare davanti alle scuole è bello andare in giro a vedere tutto questo entusiasmo che c'è dalla nonna al piccolino è bello veramente è bello e ce lo invidiano in tanti per quello gli vado raccogliendo lo sale questo è il discorso è questo il proprio torniamo in diretta qui fra qualche istante parleremo anche delle questioni societarie future degli sponsor degli stadi e anche magari leggeremo tantissimi i vostri messaggi fra qualche istante leggo un po' di messaggi vi sembrano normali questi arbitraggi si può sbagliare sempre contro avete visto gli errori dell'arbit il presidente è bravo e coraggioso ma deve avere coraggio anche sugli arbitri e sul designatore poi vabbè che siamo tutti buonissimi ma come si fa ancora a tenere l'auro parla di mercato scellerato con il budget disponibile si potrebbe dovrebbe agire molto meglio è vero che in avanti Zopoetti non è bravo ma con il Senigallia nessuno gli passava la palla non sono tanto d'accordo non si può giocare solo sulla fascia sinistra Zoboletti però nelle ultime partite anche in attacco ha fatto delle grandi partite secondo me l'auro deve utilizzare tutti i giocatori tipo Orfano Pietro Paolo Evangelisti per esempio cosa che finora non ha fatto sempre i soldi 11 li ha sfiancati vorrei sapere se vi muoverete in federazione per tutti questi torti verrà mandato comunque un dossier lo abbiamo detto la Sam non va da nessuna parte in colpa dell'albero De Angelisi che in 23 giorni di mercato ha fatto uno o due acquisti speriamo bene sento tanto equilibrio nelle dichiarazioni ma poco nell'assetto della squadra che secondo me è forte ogni domenica però si ripete lo stesso film a volte si può lasciare il pallino agli avversari rimane compatti dietro per poi attaccare gli spazi in determinati momenti della gara mi sembra una buona idea cioè rallentare un attimo e non dover fare sempre la partita a tutti i costi per arrivare sempre cotti sul finale una buona comunque tipo di analisi Presidente ma chi fece l'esposto contro l'idea all'inizio stagione si può fare il nome questo non so una cosa che poi fu comunque lo so ma non lo dico va bene io direi Maurizio mi scrive ciao per Paolo dare fiato a tutti in centrale la trasmissione sui commenti di persone che chissà se vengono allo stadio incrementano più la confusione cerchiamo di rimanere uniti anche nascondendo qualcosa che non va poi anche non leggere volevo solo dirlo ma insomma comunque la tifoseria ha anche e io credo che il messaggio anche di questa puntata che non era scontato che il presidente poi con la giunta di Max Fanesi fossero presenti speravamo in un fine anno magari più col sorriso io penso che la loro presenza lo dico anche qui magari da San Benedettese non dico da tifoso la loro presenza sia un bel segnale e poi ci sta che in un momento difficile qualcuno dica anche qualche parola non dico fuori posto offese ma comunque ci sta è anche un momento catartico di confronto di sfogo loro possono rispondere si chiariscono tante cose ma non voglio poi farla troppo lunga andiamo a sentire le parole di Lauro dette ieri in sala stampa non abbiamo sofferto praticamente niente dovevamo soltanto fare gol non l'abbiamo fatto poi dopo la distanza abbiamo preso questo secondo gol abbastanza secondo me sciocco il problema è che dovevamo chiuderla prima far gol prima cosa che non siamo stati bravi oggi ma lo so sicuramente c'è stato un piccolo calo i ragazzi hanno speso tanto per cercare di vincerla però stata una situazione dove sembra siamo scivolati un paio di giocatori sul secondo gol è stato veramente un gol secondo me molto evitabile non è che ci sta girando bene anche oggi oggi veramente potevamo fare 3-4 gol senza rubare niente però non è quello non è quello dobbiamo essere più bravi a farli gol e non attaccarci a queste cose qua la sfortuna e poi anche più solidi a rimanere sempre in equilibrio e a non le partite non si devono per forza vincere bisogna stare attenti a non prendere gol perché poi le partite si possono vincere anche all'ultimo minuto giocatori come Evangelisti Pietro Paolo hanno avuto poco spazio però poi succede che tipo scimia ai crampi e negli ultimi minuti poi si cede a livello fisico ormai la quinta partita che si perde negli ultimi 5 minuti sì sì no ma infatti anche Pietro poi è entrato stavamo cambiando prima poi la palla non è uscita e poi abbiamo preso gol però sì Luca ha fatto una buona partita è arrivato stanco sul finale però comunque ancora ne aveva lui c'era sempre un po' stanco le gambe però io mi l'ho chiesto ancora ce n'hai detto sì sì no mister c'è no quindi poi lo stavo togliendo stiamo cercando di capire dove 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 innestare dove rinforzarci oggi è entrato Musa che era praticamente una novità si è allineata qualche giorno con noi è stato anche troppo bravo perché comunque non parla una parola di italiano è stato molto bravo non è neanche semplice abbiamo buttato una partita così complicata e spiegargli tante cose perché poi purtroppo ancora non sa non sa di italiano e il francese non lo parliamo noi quindi l'inglese non lo sa quindi dai è stato molto bravo ad entrare secondo me è un giocatore importante i tifosi hanno contestato per la prima volta apertamente la squadra cosa ha da dire alla tifoseria hanno ragione hanno ragione però dal punto di vista oggi dell'impegno i ragazzi hanno secondo me hanno dato tutto è chiaro che giustamente siamo a San Benedetto siamo una squadra forte importante una piazza importante si aspettano sicuramente qualcosa in più da parte nostra quindi dobbiamo essere bravi a dare ancora di più e non bastano giocare bene le occasioni le partite bisogna vincere eccoci tornati in diretta che ne pensa delle parole di Lauro l'aiutano magari ha avuto modo di parlarci direttamente nel spogliatoio a cena oppure no ci siamo scambiati due parole ma solo di auguri no no io non sono andato a commentare ma non ho manco sentito le interviste sono stato un po' nel mio sono stato nel mio ho parlato solo con con i miei chi mi sta a fianco Gigi Traini Barzetti Max De Angelis ho parlato solo con loro ieri sera oggi abbiamo parlato di noi ieri sera siamo visti a cena col mister siamo stati tranquilli certo non è che c'erano i fuochi d'artificio però abbiamo visto l'anteprima del filmato degli auguri di Natale che sarà che sarà che è eccezionale quindi dimostra che chi sta con la Samb esprime il massimo questi ragazzi di social che sono bravissimi ieri sera ho visto un filmato sugli auguri di Natale creato da loro con Chimendi come attore ma è fantastico proprio una cosa bellissima saranno belli auguri di Natale saranno belli auguri di Natale diciamo domani arriverà anche una comunicazione domani io credo o entro dopo domani una comunicazione sul futuro come sarà impostato poi al 2024 a partire dall'allenatore nei prossimi giorni nei prossimi giorni nei prossimi non domani ci sarà modo c'è un sacco di cose da fare bravo Max vero Sam e te se presidente siamo tutti con te la società e la squadra i conti si fanno alla fine un periodo nero può capitare nell'arco di una stagione girerà bene anche per noi forza Samb per sempre Fanesi non ti arrabbiare non perdere tempo con quei pseudo tifosi ma io non credo che giusto appellarli così ognuno ha diritto di esprimere la sua e ognuno ha diritto di controbattere però qualcuno c'è un commento un po' articolato una domanda per Max Fanesi doverosa premessa eterna gratitudine al presidente Massi e alla società per averci regalato una società solida e di gente del posto Lauro per me è un top per la categoria il problema è la rosa l'allenatore che conosce la squadra meglio di chiunque altro li vede quindi se Orfano non gioca è perché non è pronto il DS ha sbagliato i due acquisti in prospettiva Paolini e Alessandro perseverare e diabolico perché non sostituirli e questo errore ci ha regalato questo mese di dicembre assurdo ti giro questa considerazione ma anche Paolini tornerà disponibile a gennaio qual è la sua condizione? ma è una condizione che si va valutando di settimana in settimana è un giocatore su cui la società ha puntato e investito per cui sarebbe da sciocchi poi lasciarlo andare un giocatore su cui puntavamo nel mercato estivo come Danilo ma come anche altri 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 giocatori per delle situazioni diverse tra loro ci sono venuti a mancare forse anche qui è un po' la chiave di lettura su tutte le voci e le critiche giuste che si fanno perché la cosa più bella è quando c'è tra la società e i tifosi interloquire in questo modo un ranfronto costruttivo che sicuramente non fa arrabbiare però la passione ci accomuna la passione per questi colori per cui è logico che quando tieni una cosa magari quando si soffre magari reagisci a dei comportamenti che possono sembrare tra virgolette rabbiosi ma è la passione che ti muove qui siamo tutti tifosi poi magari come diceva un telespettatore tra questi che mandano i messaggi c'è forse qualcuno che non viene nemmeno allo stadio io questo non lo so però noi siamo qui per migliorare per dare un qualcosa di sicuro alla città al territorio e a chi ha veramente a cuore questi colori e in questo momento si sta costruendo questo qualcosa di sostenibile qualcosa di sicuro nel tempo andiamo poi torneremo anche sulle questioni sportive perché messaggi sono tanti ho cercato di leggerli parecchi però andiamo anche sulla prospettiva prospettiva come diceva Max Fanesi il primo luglio 2024 questa società programmerà forse anche prima il campionato successivo innanzitutto situazione di Ciarrocchi e Riviera delle Palme le chiedo perché sul Ciarrocchi aspettate di ottenere una concessione trentennale lo vorreste anche su Riviera delle Palme in cambio di investimenti abbiamo mostrato diciamo il disegno dell'eventuale samstadium come è la situazione per questi due impianti avete avuto modo di riparlare col sindaco e con l'amministrazione sul Riviera delle Palme in particolar modo? Ieri c'era l'amministrazione il sindaco presente alla cena non abbiamo torturato per il Ciarrocchi assolutamente lo ringraziamo di essere venuto a cena di aver portato pure una parte della sua giunta per il Ciarrocchi credo che andremo a gennaio in consiglio comunale e sarà il comune a decidere ma alla fine non facciamo palazzi palazzine lì quindi è una struttura che secondo me diventerà un centro addirittura stiamo arrivando stiamo cercando di farlo arrivare stiamo arrivando al CONI per un centro federale stiamo valutando tante cose però sarà un punto di riferimento per tanti appassionati e per soprattutto per il calcio ma per lo sport per i ragazzi per il settore giovanile rosso-blu e poi eventuali altri ma sì ma sarà pure un grande ritorno per noi allora queste strutture se le vai a fare decidi di andare a fare di portarla avanti anche perché io già lì ci ho speso abbastanza soldi e i miei fratelli abbiamo speso abbastanza però se vai dai una continuità a questo oggi che sei sanbenettese dai un ritorno alla sanbenettese è come quello che è nato tu lo fai come struttura attingi ai fondi attingi a tutti i finanziamenti però la fai diventa un patrimonio diventa un grande patrimonio per la sanbenettese ed un ritorno economico alla società è come quello che stanno facendo per la birra per la birra 2500 euro a Santa Gemma dalla prima vendita sì però hanno creato questo ritorno per la sanbenettese ma è l'idea mia la stanno inizio a portare avanti pure la gente si ammetto cioè alla fine il ritorno la squadra la società si deve arrivare a una grande autogestione e per e si ammetto ha la potenzialità di essere un paradiso terrestre e per il riviera invece e questo sto arrivando sto arrivando lo stesso a riviera sto arrivando appunto mi stavo agganciando al cerrocchi perché è in riviera è la stessa cosa è quello che ho detto in altre situazioni qui ospite a lei che è una grande una grande opportunità per la città è questa io la reputo la prima fabbrica in città ma non una fabbrica che aveva sti siros che inquinava come l'abbiamo visto in altre grandi città noi abbiamo un fantastico stadio un fantastico stadio che oggi è da sempre chiamato cioè troneggia questo tempio del tifo e il tempio del tifo alla fine dovrà porterà alla possibilità come il cerrocchi di per dieci volte di più di quello che ti darà il cerrocchi di finanziare la San Mettese e con con quell'idea con questi progetti con queste cose possiamo fantasticare oggi stiamo parlando di prendere un giocatore e tutto quanto qua noi ai nostri cugini anni fa venne Zico cioè ragazzi non scherziamo se possiamo se fantastichiamo su queste idee che ce l'ha sto matto qua che ce l'ha sto matto qua ma non è non solo Matteo ma te pure i quattro i quattro birrifici che si ha messo lì e dice guarda abbiamo avuto questa idea si può finanziare la San Mettese certo le spese noi non è che dire questo gratis non è che stiamo a fare opera di beneficenza meno le spese finanziamo la San Mettese io ti do l'opportunità di finanziarti oggi la birra la vendi pure lo store la stiamo vendendo pure lo store quindi è un movimento un movimento pro San Mettese ma per tutto quanto e questo potrebbe diventare a livelli grandissimi in riviera senta arriviamo al passo societario venerdì l'altro venerdì c'è stato un incontro venerdì scorso c'è stato un incontro a Cupra Marittia con gli sponsor 180 sponsor bellissimo l'ufficio marketing che lavora Maurizio Di Ubalo ha detto abbiamo realizzato solo il 15% del nostro programma quindi tante cose che bisogna ancora fare alcuni sponsor hanno già confermato l'importante della scontorizzazione per l'anno prossimo lei però poi l'abbiamo sentito ha detto anche la base societaria l'ha ribadito perché l'aveva già detto in precedenza la base societaria sarà ingrandita con chi ci vuole stare e con chi vuole stare con noi tutti insieme alcuni di quegli sponsor sono eventuali candidati adesso guardiamo un po' a lunga gittà diciamo la fine del campionato è possibile che la società diventi più numerosa ancora più forte e solida? Allora io ricordo pure di avervi detto che prendevo un attimo di pausa per stare un po' più tranquillo ma in questo momento sono dovuto riscendere lui nuovo in campo perché ci sta da mettere un po' a posto le cose e via e mi avevo detto non mi torturate invece oggi non so però sono qua quindi voglio il bene della Sammettè Massi Vittorio passerà un attimo in disparte la persona di Massi Vittorio passerà un attimo in disparte per fare bene la Sammettese sì è un mondo che sta nascendo io Maurizio e William li ringrazio perché mi hanno fatto mi stanno insegnando delle cose che io non ero abituato a fare è stato un incontro con tutti gli sponsor piacevolissimo c'è stato l'intervento di alcuni sponsor sponsor di maglia tipo Polidori giudice Polidori Colacem è venuto il responsabile che è pronto ma sta nascendo ma io ho tuttora dei grandi nomi che vorrebbero partecipare a questa cosa che si chiama Sammettese che secondo me oggi deve iniziare a strutturarsi come industria è l'industria Sammettese ma per il bene della Sammettese non per il bene di Massimo Vittorio io già e lo lavoro non è che pensare a me penso alla fine che abbiamo delle grandi potenzialità delle enormi potenzialità e non le abbiamo mai sfruttate qua ci siamo solo fatti sfruttare in questi anni ci siamo fatti sfruttare e la fortuna che alla fine questo tempio del film è rimasto è in piedi infatti è in piedi però sembra quasi Alcatraz signori a pendallo lo bagno ieri ospitavo i bambini che stavano lì fuori al bagno della dirigenza davanti all'ufficio di Bichel mi chiedeva un ingeratore posso non vedere al bagno giustamente il bambino non vuole il container no stiamo a scherzare c'è di fare sola soletta e giro si dice però non è quello ci sarà questa c'è questa prospettiva di rafforzamento societario e faccio un'altra domanda anche se a me poi non aveva stupito perché avevo sentito Luigi Rapolino proprio qualche giorno prima per un videocollegamento mi ha detto che quei giorni ovviamente era molto impegnato con questioni di lavoro era presente a questo incontro quest'estate sia alla campagna presentazione campagna abbonamenti sia alla presentazione della squadra vediamo qui le immagini parlavate eravate vicini come sono i vostri rapporti e poi ricordiamo che però Rapolino Sideralba è uno sponsor della Samb nel senso cerchiamo di capire è un rapporto tra due società private ecco questo spesso lo spiego ai tifosi però giustamente vogliono sapere ecco queste sono immagini col sindaco e con Rapolino come sono i vostri rapporti con i rapporti con Sideralba i rapporti con Rapolino sono ottimi ci scambiamo ogni tanto un whatsapp a fine partita quando non è venuto allo stadio ieri mi avevano detto che sarebbe venuto dopo non l'ho visto allo stadio lui sicuramente è molto più impegnato di me la sua grande azienda ha bisogno di lui ma sono ottimi rapporti uno sponsor è uno sponsor di maglia è un grande imprenditore che ha visto Sambetto che è buono investirci è ottimo investirci come ci investiamo noi da anni come noi di Sambetto e quindi alla fine benvenga chi voglia far crescere Sambetto perché Sambetto deve crescere se viene il dottor Rapolino che farà crescere Sambetto tanto di cappella a lui e speriamo che resti sempre uno sponsor o se vuole di più della società ma lui ha detto sempre di no vorrei fare lo sponsor benvenga benvenga io Sideralba lo posso tenere pure a vita sulla maglietta non è un problema però saluto saluto il dottor Rapolino anche perché ho ricevuto un suo augurio di Natale cercherò di dire contro e cambiare però dammi un po' di tempo perché qua mi tirano la giacchetta a tutte le bar alto che riposo alcuni messaggi mi permetto di aggiungere una cosa ad inizio campionato chi avrebbe firmato per un secondo posto a metà campionato raccogliamo i coach e guardiamo avanti forza Presidente Massi uno di noi la delusione la rabbia la troppa passione purtroppo hanno effetti brutali ci scaglia su tutto e tutti siamo sammentesi e siamo abituati a soffrire questo più e nulla rispetto a quello che abbiamo passato quindi dopo la sfuriata torniamo all'equilibrio tranquillizziamo le acque iniziamo il nuovo anno con fiducia in questa società che sta lavorando solo per il bene della città e della sanbenettese qualcuno comunque ce l'ha tirata alla grande il Presidente auguri per buon Natale al Presidente la partita di ieri è stata una delle più belle vista a Riviera con una qualità di gioco riconosciuta anche dal pubblico è chiaro che gira tutto storto qui da una tifosa che le fa anche gli auguri il Presidente questa è simpatica ha lo stesso timbro di voce del Sindaco e anche la cadenza sono di San Benedetto entrambi vanno d'accordo anche sulla situazione di Riviera perché il Sindaco ha detto io aspetto che Massi mi presenti il progetto no adesso parliamo no no nel caso mettiamo qui a Verativu un tavolino vi facciamo venire qui vi facciamo parlare ma no io mi è stato rimproverato come fece la battuta Genolo padrone umare quella che è stata rimasta simpatica ma a me mi venne spontanea non è questa no sembrava veramente che io volessi le mani di Massi sulla città sembrava Ciarroc Riviera oh questo che vuoi questo che vuoi questo che vuoi cercare no fermo no facciamo Ciarroc facciamo Ciarroc sistemiamo un attimo il settore giovanile è una struttura che già c'è per una parte è stata costruita costruita è stata realizzata adesso stiamo vedendo il nuovo campetto vediamo quello che si può fare però mettiamo mettiamo scrivevano perché io ho 10 anni che vado in giro qua non si scrive scriviamo su Ciarroc e poi vediamo tutto il resto ma stiamo a vedere pure la San Mettese adesso dobbiamo curare curare questa che non è malata la San Mettese no qualcuno un messaggio dice avremmo filmato avremmo filmato ma no io sono partito per vincere il campionato noi io tutte le volte quelli che sono venuti i giocatori venivano e dicevano che volevamo vincere l'unico che non ha detto mai gli unici che non dice mai ero io e Max ma anche il direttore io vengo per vincere il campionato è gente convinta di voler vincere il campionato e sta male ieri sera male stavamo male ci venivano le lacrime a tutti quanti negli spogliettori ci venivano le lacrime siamo riusciti non siamo riusciti neanche a dire una parola all'arbitro che di solito uno si invelocisse contro l'arbitro perché quanti ne potevi dire quanti ne potevi dire quanti ne potevi dire all'arbitro ci siamo messi da una parte le lacrime agli occhi ci venivano perché c'era una cosa assurda basta ma tre punti io ho cercato di calmare tutti quanti perché se mi ci metto pure io che è solo primo che farò così cioè se mi ci metto si è sfogato un po' negli spogliettori no io mi sto sfogando stasera ecco tu mi sto sfogando allora mi ha fatto bene avendo il presidente io non mi sono sfogato ho saputo che tre miei collaboratori sono stati fino alle tre un quarto al freddo gelido per cercare di trovare la soluzione migliore per la San Mettese cioè non è che dici oh vabbè dopo la partita ma non c'è Natale per darci gli auguri era già organizzata ci siamo guardati in faccia diciamo è dura però io ho preso il microfono ho salutato il sindaco ci ha dato gli auguri è stata è stata fatta certo non eravamo nella nella cosa più bella che ci poteva però hai perso 3 a 1 in casa oh la bella patosta si è piaciuta ma tu a 20 minuti alla fine puoi pensare che perdi 3 a 1 per dire 3 a 1 non 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 manco quello delle grandi scommesse e dice oh manco pare pare e dice oh bella se è madata ho scommesso non può dire un presidente questo domanda per Max tecnica c'è bisogno di un allenatore diciamo ignorante in senso una specie di sonetti però si dice poche azioni nello stretto e centralmente credo sia una mia impressione ma forse è lì dove si dovrebbe intervenire perché giochiamo solo sulle fasce e cross per vie centrali questo è il problema la mancanza di un centrocampista che doveva essere Polini che si inserisce centralmente questo lo ha fatto stesso Scimia ieri sì però lui ha giocato poco quindi si lo ha fatto nelle sue corte ce l'ha gli inserimenti è una mezzala di inserimento uno che tra l'altro ha preso anche la traversa ieri per cui ma allora che questa squadra deve essere migliorata qui nessuno discute noi non stiamo dicendo che la squadra ha espresso il cento per cento deve essere migliorata c'è stato un mercato che nel quale la società ha preso un indirizzo che è quello di prendere giocatori che magari purtroppo scendono purtroppo tra virgolette scendono la Lega Pro quindi bisogna aspettare i tempi burocratici che ci sono dovevamo tenere botta queste due partite purtroppo ieri il risultato non ci è non ci è andato bene però abbiamo fatto per 70 minuti una buona prestazione parli con uno che ti dice io preferisco giocare 90 minuti male e poi all'ultimo minuto fa gol per cui mi trovo anche un vestito stretto nel dire queste cose però sì dobbiamo migliorare e chiudo dicendo che noi questo è un discorso una riflessione che c'è spesso nelle chiacchierate tecniche dobbiamo essere bravi a vincere le partite in modo sporco cosa che non è mai avvenuta forse a Bastogirardi esatto Atletico Ascoli era la classica partita da vincere in modo sporco e ci siamo fatti male da soli negli ultimi minuti intanto all'inizio ho accennato appunto all'esonero dell'allenatore del Chieti Chianese il suo sostituto sarà Gennaro Jezzo ex portiere del Napoli allenato la primavera di Lavellino e anche la Serie A in Serie A Bulgara quindi c'è stata questa decisione dopo il 3-0 la vittoria di Chianese andiamo adesso a sentire un esperto di calcio come mister Alessandria ha allenato tantissime squadre il rappresentante a Rivera l'ho sentito tra il primo e il secondo tempo sentiamo cosa ci ha detto un minuto ma fa capire le impressioni di chi era neutrale anzi magari ha anche avuto un passaggio a Senigallia se non ero sentiamolo un'impressione su questo primo tempo Samba a Vigo Senigallia è una partita che si era messa bene poi la Vigo Senigallia ha pareggiato perciò si sono complicate un po' le cose poi si è anche infortunato il giocatore sì ha cambiato modulo però è una squadra che sta costruendo tanto però bisogna che è altrettanto vero che a volte concede troppo e poi la partita si può complicare però insomma è una partita ancora tutta aperta io purtroppo sono un po' diviso essendo in Senigallia anche dal cuore per Senigallia però insomma vedere una partita di questo tipo in un ambiente così è uno spettacolo perché c'è una tifoseria che certamente merita altre platee anche se oggi in infrasettimanale ci sono meno presenze del solido va bene ma considerando proprio appunto che giochiamo di mercoledì si gioca e di sera in modo serale durante l'inverno perciò avere un pubblico così io penso che non è per tutti e sono convinto che quest'anno al di là della partita di questa sera la Samba potrà raggiungere quell'obiettivo che si è prefissato e la auguro Presidente qualcuno dice prendiamo Chiriota che ci ha dimostrato quanto vale però non credo che sia che si verrà preso grande Presidente Forza Samba e qui qualcuno dice mi ricorda Rozzi cioè il Presidente storico dell'Ascoli che è un po' particolare lei ricorda un po' Rozzi però c'è da fare un bel cammino Presidente per questo qualcuno dice la difesa troppi gol se giochi a due chi fa gli inserimenti sì l'ho detto io ovviamente esatto è questo perché Lauro ha cercato di giocare con due attaccanti perché non ha il centrocampista degli inserimenti a meno che non potesse essere evangelistiche però non abbiamo mai visto sentiamo però anche le parole dei mister Clementi che parla di questa vittoria ma in qualche modo ammette diciamo che sia stata una vittoria un po' fortunata contro abbiamo avuto una Samba molto forte una Samba che secondo me ci ha messo in grande difficoltà soprattutto nella prima mezz'ora non riuscivamo a prenderla probabilmente anche la mia impostazione della partita non è stata quella giusta siamo dovuti ricorrere a un cambio in corsa di uomini e tattico e credo che in molti momenti siamo stati più vicini ad andare sotto piuttosto che a vincerla siamo stati molto molto bravi a capitalizzare quello che ci è capitato e se c'è una cosa che mi piace anche nella difficoltà perché poi nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà perché abbiamo fatto molti errori è però il fatto che nel primo tempo ho visto una squadra impaurita una squadra che non è abituata a giocare una cornice così la cornice credetemi perché insomma è tanta roba e quindi ho visto molta paura molta imprecisione poco coraggio nel secondo tempo abbiamo cambiato abbiamo provato a cambiare qualcosa facendo anche molti errori in impostazione da dietro perché comunque non si poteva continuare a a non sfruttare un'occasione così cioè giocare il nostro calcio in un campo come questo e in una cornice così quindi ho chiesto molto più coraggio ovviamente tanti errori in impostazione però quando siamo riusciti a superare la prima pressione abbiamo fatto male gli abbiamo fatto male alla Samba e siamo andati in gol quindi accetto i complimenti mi piacciono i complimenti ovviamente la vittoria per noi è una cosa grandiosa oggi però credo che vada a merito anche ai nostri avversari che hanno fatto molto per vincerla una partita non troppo diversa da quella dell'anno scorso sempre sotto Natale dove la Samba aveva tantissime occasioni e voi vincesse con un gol negli ultimi minuti sì un gol poi tra l'altro anche abbastanza simile come azione a quello che ci ha portato sul 2-1 oggi è ovvio che nella mia testa preparo la partita per venire qua a giocare da squadra forte magari a impormi però quando trovi squadre così con personalità così con questo incitato anche da questo pubblico qua fai fatica quindi spesso le vai a rincorrere e spesso sei costretto a prendere quello che ti concede alla squadra avversaria ovvio credo che la forza della Samba sia superiore a noi e quindi in campo in alcuni momenti si vedeva a una foto di una cena con i primi calci del 2016 con mister Luca Balletta che abbiamo avuto poi ospite qui a Ritmo di Samba una bella foto che anticipa diciamo il Natale è anche importante diciamo questo spazio che abbiamo dato al team di Samba ecco qui tanti bambini sorridenti è una delle cose più belle poi che vengono fatte a questa nuova società che poi sicuramente dal 2024 rafforzerà ancora il settore giovanile vediamo il girono di ritorno della Samba cosa aspetta il Rosso Blu nei prossimi mesi si parte appunto da Samsora nella prima fase scontriati c'è soltanto la partita con l'Avezzano in casa è vero che poi abbiamo visto tutte le partite nascondono insidie poi si arriverà nella fase finale a fine marzo agli scontri diretti l'obiettivo chiaro ormai il campionato è equilibrato è in quelle partite giocarsi la vittoria del campionato penso che sia questo l'obiettivo però è anche ripartire forte all'inizio dell'anno perché con i nuovi arrivi Fannesi brevemente bontà in che condizioni fisiche sarà disponibile da subito il 7 gennaio o pensate di aspettare un po' ma bontà è iniziato a fare una base di preparazione atletica secondo me è un giocatore importante in 3D è assimilabile quasi a un attaccante per lo score realizzativo è un giocatore che ci può sicuramente dare un altro tipo di interpretazione durante la la partita non ha avuto infortuni ci tengo a dirlo perché molti tifosi mi hanno chiamato mi hanno detto ma perché non ha avuto un problema per l'idoneità che adesso è stato tutto risolto è uno di quei giocatori che in questa categoria dovrebbe fare la differenza ha un inserimento a colpo di testa quindi anche nelle palle alte ci può dare una mano sia in fase offensiva che in fase difensiva è un giocatore che secondo me anche se non è al 100% in questa categoria ci può dare tanto intanto c'è stato un piccolo cambiamento nelle date lo stop a causa della concomitanza col torneo di Viareggio lo stop previsto il 17 marzo è stato anticipato l'11 febbraio quindi le giornate dalla 23esima alla 27esima si terranno di una settimana collocandosi rispettivamente al 18-25 febbraio al 3-10-17 marzo terminiamo terminiamo con un come dire un tributo a questi primi 4 mesi di US e San Mettese per il Presidente Massi possiamo vederlo perché pensiamo che comunque per quanto fatto si meriti questo piccolo tributo a fine anno sì intanto goditi questo siamo la sa siamo undici giganti rosso blu sempre così col cuore in alto siamo in serie B la gente che ci segue già lo sa e forse presto siamo in serie A la forza per avere da affrontare una categoria più su o anche due categorie più su non parlo della terza categoria perché dopo siamo troppi dopo siamo troppi però siamo la sa non c'è nessuno forte come noi credeteci credeteci perché la San Mettese questa è come sale non l'ho rubato mi mi regoglia il proprietario scusate me l'hanno portato io lo restituisco è comunque bello il sale ma adesso ci vogliono scorte di sale bello diciamo molto massicce andiamo a vedere tutti i gol del giro di andata della Samba e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.